Concerto d'archi con i docenti e gli allievi del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera e allievi provenienti dalla Cina, da Malta e da altre regioni italiane. Si terrà questa sera con inizio alle ore 20 presso la chiesa di Santa Maria dell'Itria di Sciacca, la Badia Grande. Il concerto è organizzato dal Conservatorio Toscanini, diretto da Riccardo Ferrara e presieduto da Alberto Albergoni, in collaborazione con l'Accademia Aymart di Roma, la sede Schiene Academy di Sciacca, il Museo Diffuso dei Cinque Sensi e con il patrocinio del Comune. Nell'ottica di una reciproca e proficua collaborazione che negli anni si è sempre più rafforzata, ciò che unisce queste istituzioni è il comune obiettivo di diffondere e divulgare sempre di più la cultura musicale, promuovere i giovani talenti e rendere sempre più attrattivo il nostro territorio non solo per i turisti ma anche per gli studenti dell'alta formazione artistico-musicale. Ad esibirsi saranno infatti i giovani allievi del Conservatorio Statale di Musica Arturo Toscanini di Ribera, tra i quali anche studenti internazionali provenienti dalla Cina, da Malta e da altre regioni, e alcuni docenti con il coordinamento di Adelaide Filippone, docente titolare di viole della classe di musica d'insieme per archi del Conservatorio e la direzione artistica di Mariangela Longo. Il concerto propone un viaggio musicale insieme alla famiglia degli archi, dal barocco al moderno, da Bach a Bartok, dai suoni più acuti del violino a quelli più gravi del contrabbasso, che a turno saranno solisti per poter godere appieno di ogni singolo strumento e delle caratteristiche timbriche ed espressive più belle e speciali di ognuno di essi.